Buon pomeriggio e benvenuti. Operazione basso profilo, maxi blitz contro l'Andrangheta. Questa mattina coordinato dalla direzione mistrettuale antimafia di Catanzaro sotto la guida del procuratore capo Nicola Gratteri. Arresti in tutta Italia. In Calabria finiscono nel mirino nomi celebri, colletti bianchi, politici. Finisce agli arresti anche l'attuale assessore al bilancio della regione Calabria, Francesco Talarico. Attestata una movimentazione illecita di denaro per un valore che supera i 300 milioni di euro. Per tutti i dettagli noi ci colleghiamo in diretta con Catanzaro, lì c'è Rossella Galati per conoscere meglio questo terremoto politico giudiziario. Rossella Galati, a te la linea. Buon pomeriggio. Torniamo in studio grazie a Rossella Galati. Restiamo in argomento e torniamo ad occuparci dell'inchiesta a Fausto che sta creando non poco imbarazzo negli ambienti della politica di Polistena. Ora il sindaco di Polistena, il primo cittadino, viene accusato dal suocero di aver pagato insieme a lui tributi, tasse, al posto degli esponenti del clan Longo. Consolato Minniti. Nuova clamorosa doppia protesta dei dipendenti. La procura di Catanzaro ha espresso parere favorevole all'istanza di riapertura di piazza Bilotti presentata dal comune di Cosenza. Entro pochi giorni, quindi l'opera sequestrata, lo ricordiamo, nell'aprile del 2020 per presunte irregolarità nel collaudo potrebbe tornare ad essere fruibile. Il servizio è di Salvatore Bruno. Gli investimenti di archeologia urbana di competenza del comune di Crotone nell'ambito dell'antica Croton saranno centrati in poche aree. No agli scavi in piazza della Resistenza e nel piazzale delle poste. Francesca Cagliazzo. I sindaci della Sibaritide parteciperanno alle riunioni operative dei megalotti 8 e 9 della statale 106 Ionica, ma l'appello è rivolto al governo affinché includa l'arteria nella pioggia di finanziamenti. Matteo Lauria. Parliamo ora di sanità. L'emergenza pandemica da Covid-19 ha fermato anche l'attività di screening su tumori femminili e non solo. Ma alla mezzia terme ora si programma la ripartenza. Scegliete un'altra montagna, meno rischiosa ma non meno coinvolgente. Questo è l'appello diramato dal Corpo Nazionale, soccorso alpino e speleologico nel pieno della stagione invernale, condizionata da una sanità messa a dura prova dall'emergenza Covid. Vincenzo Alvaro. E stiamo allo sport calcio. Partiamo dalla Serie C, una sconfitta nelle ultime 11 giornate, crescendo il finale del girone di andata per il Catanzaro. Non sono mancate le amarezze, ma il bilancio può ritenersi soddisfacente. La pandemia sta condizionando fortemente il mondo dei dilettanti, campionati fermi, gare rinviate e soprattutto tanti dubbi sul futuro. Roberto Saverino. Nel campionato di Serie D arriva la prima vittoria stagionale per il Rende, bene anche il Castrovillari. Si conclude qui questa edizione, il telegiornale tornerà ad informarvi questa sera alle 20.30. Per tutti gli aggiornamenti e gli approfondimenti vi ricordo la nostra testata editoriale web, la cnews24.it. Arrivederci.